Saranno più di 200, anche 250 gli uomini in strada appartenenti a tutte le forze dell'ordine ma con la collaborazione anche delle polizie municipali, tutti in strada per garantire il rispetto delle regole ma anche la nuova ordinanza che prende il via da oggi e che dalle 23 alle 5 ferma le attività commerciali ma anche la mobilità. Subito dopo il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico si è svolto in mattinata un comitato tecnico interforze coordinato dal questore di Salerno Maurizio Ficarra al quale è spettato il compito di coordinare uomini e mezzi, posizionarli nei punti strategici. Salerno e provincia si preparano così a garantire il rispetto delle regole. Intanto abituiamoci tutti a non usare questo termine così brutto che richiama altri generi di coprifuoco che non erano assolutamente belli da ricordare. Quindi diciamo che è un lockdown mirato e selettivo. Sì, noi stiamo lavorando molto in queste ore. Noi già con tutto quello che è successo con la prima ondata non abbiamo mai smesso di far osservare le precauzioni e le disposizioni generali per fronteggiare l'emergenza del coronavirus. Nelle ultime ore, come lei bene ricordava, si sono aggiunti il DPCM nazionale e anche le ordinanze del Presidente della Regione e quindi da questo punto di vista abbiamo intensificato la nostra attività. Proprio stamani si è svolto il Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, allargato al Presidente della Provincia, al Sindaco e via discorrendo. E adesso noi stiamo per fare tra qualche minuto il tavolo tecnico di coordinamento in questura, poiché come prevede la legge e come da direttive del capo di gabinetto del Ministro di qualche giorno fa, che non ha fatto altro che riprendere quanto previsto dalle disposizioni vigenti, il questore fa un tavolo tecnico di coordinamento con tutte le forze di polizia e lì stabiliremo nel dettaglio, nei vari posti della città e dei vari comuni, quali forze tra la polizia e Stato, i carabinieri, la guardia di finanza e soprattutto le polizie municipali. Perché le polizie municipali hanno un ruolo molto importante ovviamente nel presidio della città, quindi ci stiamo organizzando per fronteggiare al meglio possibile la situazione. Hai un'idea di quanti uomini saranno necessari e saranno in strada a partire da stasera? Sì, guardi, io le posso dire che sicuramente nel weekend parliamo di 200-250 persone, sicuramente, tra stasera, sabato e domenica, sicuramente non meno di 200-250 persone. Si sente di dire qualcosa ai cittadini, magari anche un appello al senso di responsabilità di ognuno, al rispetto di queste nuove regole? Sì, senz'altro, al di là del rispetto delle nuove regole, ma di tutte le regole precauzionali per fronteggiare il coronavirus, dobbiamo mantenere le distanze e tenere le mascherine. Mi raccomando soprattutto nei luoghi chiusi e per quelli intendiamo esercizi commerciali, esercizi pubblici, lì è molto importante mantenere la distanza sociale. Quindi il cittadino stesso che si vede posizionato, magari per prendere il caffè, a 40 cm di un'altra persona, deve essere il primo, nel suo interesse e della sua famiglia, a ricordare al gestore, devo dire che la maggior parte dei gestori lo fanno, ricordare che bisogna mantenere le distanze. Solo tra congiunti ci si può stare vicini quando si va nei negozi o negli esercizi pubblici. Congiunti significa palesemente marito e moglie, padre e figli. Altrimenti i gruppi di amici o gruppi di conoscenti devono stare distanziati anche quando prendono il caffè, anche quando entrano in un negozio alla cassa per pagare un qualsiasi oggetto.